Ciao a tutti e benvenuto a questa doppia analisi con l'indicatore dell'algoritmo Volta per quanto riguarda il natural gas e il petrolio. Sarà un'analisi velocissima perché in realtà l'ho già registrata prima ma mannaggia non ho messo un accorto che il microfono non era visto da OBS. Quindi bando alle ciance, partiamo subito, niente sigla, faccio prima. Allora Bitcoin vede un bel numero di cicli in sincronia ribassista con i massimi che andavano dal 13 giugno fino al 30 giugno per quanto riguarda i cicli da 40 e da 20 giorni. Il mercato ha risposto perfettamente alla previsione andando a generare un massimo il 26 giugno 2023. Che cosa dovremo dunque fare per i prossimi giorni? Semplice, dovremo aspettare la rottura di questa trendline del ciclo a 20 giorni che vado ad evidenziarti, quindi minimo e minimo del ciclo a 20 giorni per andare a cercare indicazioni ribassiste. Avremo due target a disposizione, il primo ovviamente il lato inferiore del rettangolo di lateralità, 2,48$ prezzo broker che utilizzo per questa analisi e il secondo target che sarà una sorta di possibile incrocio tra livello di resistenza di 2,38$ e naturalmente le trendline del ciclo da 40 giorni, quella blu, e la trendline che era di un ciclo a 20 giorni che adesso non è più da considerare come trendline valida da 20 giorni perché chiaramente si è venuto a creare un nuovo ciclo da 20 giorni ma che assolutamente potremo utilizzare come livello di target per poter uscire dalle nostre operazioni. Abbiamo i prossimi minimi che sono previsti tra un 17 e un 23 di luglio e in realtà abbiamo anche un minimo più lontano di agosto però è veramente prematuro perché fa parte di un ciclo un po' più di grande durata quindi questa sarà sicuramente un'area temporale interessante una data interessante per poter liquidare i nostri short. Imperativo attendere però la rottura della trendline prima di entrare quindi di non rischiare di entrare alla Carlone. Tanto vede che sono illuminato che neanche Barbara D'Urso e vabbè ha dovuto staccare la spina perché c'è la temporale probabilmente è impazzito un po' tutto quanto. Per chi non mi conosce io sono Paolo Paisino sono il fondatore del sito tradingpertutti.com che da 16 anni aggiorno quindi sono un trader ormai mi considero della vecchia guardia. Ti invito a visitare il sito a prendere visione dei servizi che metto a disposizione principalmente l'indicatore Voltime che è lo strumento che da me è creato, ideato sulla mia analisi ciclica per poter lavorare con il tempo quindi con l'unico fattore prevedibile statistico dei mercati l'indicatore incredibile perché è automatico quindi analizza da solo tutto lo storico presente ne individua le componenti cicliche ne calcola la durata media e ce la proietta sotto forma di sinusoide composta nel futuro composta perché è generata da più cicli che noi andiamo a selezionare sul pannellino questo ti permette di sapere con mesi di anticipo cosa farà il mercato quindi quando andare long e quando andare short oppure addirittura per gli scalper quindi con un ciclo molto piccolo sapere che cosa succederà da qui a pochi minuti quindi come posizionarsi long e short anche per lo scalper se vuoi approfondire il tutto corso di analisi ciclica e volumetrica ti invito chiaramente a guardare i dettagli a avere accesso a quasi 60 ore di formazione 60 ore uniche nel loro genere perché sono un trader che ha creato il proprio metodo e non è esperto di metodi altrui e questo è sicuramente una rarità nel nostro settore risultati del mese di luglio perché se stai cercando dei segnali intraday risultati del mese di luglio stanno andando molto bene 132 sono i punti che abbiamo già chiuso sul DAX e 6 i punti che abbiamo chiuso sul Nasdaq oggi 40 punti sul Nasdaq condivisi nel canale riservato agli iscritti ai segnali un 3 di un minuto ogni tanto raramente capitano sono entrato short sul segnale volumetrico e un minuto dopo abbiamo chiuso a target con 40 punti meno male di solito ultimamente 40 punti ci metto mezza giornata a farli andiamo a vedere subito il petrolio non era una puzzetta ma era il gomito che cigolava e di nuovo su il tavolo ho messo un attimo in pausa perché ho dovuto aprire l'altra piattaforma petrolio lo vediamo mancano tutte le date date? ecco le buone siamo in una fase andiamo a una fase di fondo come è considerata abbiamo un 20 settimane che è al ribasso abbiamo un 40 settimane che è al ribasso vedi come in maniera molto semplice escludendo o includendo cicli si va a creare un'onda composta in realtà li posso anche isolare la solia quindi lavorare con una sola componente ciclica nel nostro caso abbiamo bisogno di sapere grandi e piccoli come sono posizionati quindi abbiamo il ciclo da 80 giorni che è anch'esso nella fase di ribasso e però poi abbiamo il ciclo da 40 giorni che sta raggiungendo adesso il suo picco e quindi possiamo già considerare uno, due, tre, quattro cicli ribassisti ormai conclamati e il quinto che sta iniziando adesso la sua fase di ribasso quindi cosa facciamo? andiamo a long? no qualsiasi indicazione long va ignorata se il mercato salirà perderemo un'occasione ma da un punto di vista statistico bisogna cercare indicazioni ribassiste quello chiaramente è una conferma grafica in questo caso per me un buon segnale sarà la rottura di questo canale rialzista e comunque in prima battuta il rientrare dentro a questo rettangolo di lateralità ossia con il prezzo di 74 dollari e 0,9 ovviamente riferito al broker che utilizzo per questa analisi accendo velocemente la lavagna così abbiamo anche lo strumento per poter disegnare rieccomi qua ignoro gli aggiornamenti perché poi è un aggiornamento che non mi è piaciuto e sono dovuto tornare indietro abbiamo anche il nostro cast quindi per comprato il che non guasta quindi vuol dire che abbiamo spazio per un ribasso non perché siamo i precomprati e li abbiamo vendere non funzionano così gli stocastici usali così perderai sicuramente soldi ma io vado a misurare quanto tempo ci mette da un minimo a un massimo e quindi lo vado a parametrare con l'ampiezza del mercato per sapere se è un movimento sano oppure no in questo caso attenderò chiaramente il segnale un momento rimaniamo ancora alla finestra però ripeto rottura del canale e rottura del lato superiore dell'altra realità sarà già un primo segnale in realtà abbiamo una bella media mobile che ho già aggiornato nell'analisi che ho registrato Muta e il periodo da 70 perché? perché il ciclo da 80 giorni come puoi vedere ha una durata effettiva di 70 giorni parliamo di 8-10 anni di storico quindi è sicuramente attendibile quindi avendo una durata media di 70 giorni ho tarato la media mobile a me piace lavorare un ciclo di 80 giorni che andremo a utilizzare per il nostro trading quindi per i più conservativi potrebbe essere in realtà la rottura a chiusura sotto la media mobile per poter andare short come primo target da trendline del ciclo da 40 giorni questa è come di blu e secondo eventuale target in caso di rottura il livello di supporto è 66 dollari non mi piace come numero è 68 dico con questo direi che è tutto ti do appuntamento alla prossima doppia analisi che sarà su bitcoin e ethereum ciao ciao a dopo